Martedì 29 agosto ore 17 e 48 E' questo il tuo Colosseo, noi saremo il tuo popolo, vieni a vedere Romelu! Tocca il campo per la prima volta qui allo Stadio Olimpico Romelu Lukaku in maglia giallorossa Un gigante, un campione, ha scelto la Roma Lovazioni di Romelu Lukaku Suffiaci il cuore, consumaci la voce con il numero 90 Romelu Lukaku Romelu Lukaku Romelu Lukaku E andiamo sotto la sud Romelu Lukaku Basi Era Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti